Ciao a tutti, eccoci tornati con The Witcher 3 Well Done, seguiamo Mislav e vediamo dove ci porta. Sì, è vero. Perfetto, grazie. Esamina. Oh, il cadavere è almeno un paese di più. E' morto, se l'ipo è. Forse. Eh. Perfetto. 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 Bones, horse, dog, human, a few months worth. Vediamo, danni più uno, tutto pregiato, ma non capisco quel meno 4, più 4 probabilità, vabbè, cambiamola, perfetto. Altro da controllare, cos'è questa bocca? Allora, vediamo, controlliamo bene perché altrimenti... no, se non l'ho capito, non lo so, perché ho capito. Ma, vedevi, qui la ecco? Why the wood, boyan clinics. Good lad, Master Witcher, though he... Yes, yes, this boyan, will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Harvest is a long way off yet. Yes, what is it wolf? allora diciamoli prima cattivi, gli umani buoni ora è tutto confuso ripeto, magari questi dialoghi poi ve l'Italia dunque vedo di mettere meno dialoghi possibili però è successa l'illuminazione allora come va? ok learned some things it's a male had it's nest in the vulpine woods the Nilf guardians burned the woods down killed it's mate smashed their eggs thought they'd fixed things it's always the same instead of sending for a profession all they try to do it themselves only end up making matters worse got the buckthorn oughta work like a charm powerful scent more like stench city boy rotting meat, manure, piss standard smells of the countryside remember Tredegor hunting that zoogle in the trash heap you spent half the next day bathing, scrubbing yourself how can I forget? you ever gonna stop bringing that up? fine if everything's ready say the wo- later Vesemir allora io direi prima di tutto di andare in missioni dove cazzo eh? missioni eccolo uccidi i ghoul dove va? no ho fatto tutto parla con Vesemir ho fatto tutto quindi niente possiamo iniziare la missione quindi tutto io mediterei farei alveggiare meditazione vai via già fatto perfetto perfetto salviamo pure diamoci un salvataggio ogni tanto ok aspettate un attimo ecco ecco mi voglio scusate ok parliamo con Vesemir allora ecco 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 ok tuono ecco qua ah questi me li avrà dati lui però praticamente faccio così questa questa perfetto per accedere all'inventario uso poi non ho questo ecco questa è la base questi sono gli ingredienti allora inventario vediamo inventario devi prima equipaggiarla perfetto vado qua suono in uno slot consumabile mettiamo qua R ricordiamoci che è R ok 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 allora direi che siamo pronti ad affrontare il grifone quello è Vesemir guarda come corre Vesemir guarda Lazzaro come corre Lazzaro chi è che sa sta canzone si chiama si chiama al traditore ma che vuoi vengli squallo eccolo qua figa sono stanco praticamente dove è steppa qua pezzemolo ok cacchi di grano proprio in caldevole perfetto per un'imposcata so sceglierli bene ahahahah allora possiamo iniziare ah una pecora però vabbè piano piano ci andiamo alle betulle che diciamo quando ci troviamo Yennefer cosa facciamo? hai avuto il contratto? non ora andare a Carmoire un po' presto un po' presto l'inverno l'inverno è un po' presto sì e' quello che preoccupa l'inverno 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 magari una settimana da Carmoire l'inverno prima l'inverno si si bisogna cobrare le strade le strade parlando l'inverno e l'inverno pensi che saranno questo anno? magari potrei portare un guest eccolo mazza si è giusto vai che lo ammazziamo vai balestrina? hai un figo pepe d'azzardo bene 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 ah ah adesso abbiamo un grifone da uccidere che 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 chiede che 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 Grazie a tutti